Io ho iniziato questo percorso da segretaria e sono diventata responsabile. Venivo da un percorso che non mi entusiasmava, che non sentivo mio. Inizialmente avevo qualche remora nel mollare un posto fisso per venire a lavorare a pochi giorni. Mi era stato offerto un piano di crescita e un fisso mensile che mi poteva permettere di imparare bene questo mestiere. Un posto pulito, un posto etico in cui puoi ottenere risultati in base a quanto vale, in base a quanto meriti. Dopo 12 anni posso garantirvi che tutto sia avverato grazie a questi principi. Un motivo su tutti è che noi siamo un team affiatato e ci diamo una mano l'uno con l'altro. Sono pienamente soddisfatto della scelta fatta. Nonostante appunto i miei impegni da mamma, ho fatto carriera e mi sono sentita insomma realizzata sia come donna, come mamma, lavorativamente parlando come responsabile di un ufficio. Lo scopo di Grande Agenzia è quello di cercare casa a tutti quei clienti che si rivolgono appunto a noi. Grazie al lavoro che costantemente viene svolto ogni giorno dai nostri collaboratori. Noi investiamo tantissimo sulle persone perché noi crediamo che se una persona è preparata ed è formata, sicuramente dà non solo valore aggiunto alla nostra azienda, ma valorizza anche se stesso e anche il cliente. Negli ultimi 15 anni abbiamo dato grandi opportunità alle persone che sono venute a lavorare con noi. Perché per noi al primo posto c'è realizzare i desideri insieme alle persone. Stiamo aprendo agenzie nuove a Bologna, a Verona, a Parma, stiamo crescendo ovunque proprio perché vinciamo insieme. Qui da noi trovare un ambiente unico dove tutti si preoccuperanno di farti vincere insieme a noi. Se stai cercando un'opportunità per la tua vita, se vuoi davvero realizzarti, diventare un imprenditore e un libero professionista, grandi agenzie è l'azienda giusta per te. Invia il tuo curriculum. Ciao!